Ciao a tutti Sono Multicarmie10 E benvenuti in questo nuovo video Perfetto, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Multicarmie10 Oggi sono qui con un nuovo contest perché lo vediamo direttamente Non così o così, ma così Guardate che ficcata YouTube Ma chi? Ah, ok All'inizio mi ha cercato Yahoo Avete visto che ficcata Vi ringrazio per i 251 iscritti e le 22.900 visualizzazioni Grandi ragazzi abbiamo superato i 250 E tra poco andiamo alle 23.000 Questo canale sta crescendo di giorno in giorno E quindi oggi vi porto un nuovo contest dove si vincono solo intro Però intro Che ne so, dalla più semplice A una più bella Che però non farò con Cinema 4D Quindi Perché Non mi funziona bene Ma un altro programma Che Mi fa L'intro Sono abbastanza belle E Ci saranno tre vincitori E Dal tazzo Fino al primo farò Dalla più semplice A una che ne so Più bella Con una musica più ficca O Ci proverò Perfetto Non verrete sorteggiati Su Random.org Ma avevo deciso di fare Un video Sempre con Camtasia Però con la videocamera Faccio una specie di vlog Video vincitori E Dove vi faccio vedere I vincitori Però Ta 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 La cosa Diciamo Più bella Del contest E che Voi Partecipate Poi dopo vi dico Le regole Allora Voi Partecipate Poi Che ne so Tipo partecipa uno Che si chiama Giacomo12345 Che non è un miscritto Non so nemmeno se esiste Sto canale E Tipo Io dico Chi partecipa A questo contest Verrà Aggiunto Non una volta Nel Barattolo La con i foglietti Ma più di una volta E Verrà aggiunto Più di Tipo Ogni volta Di nuovo Ogni volta Che farà partecipare Un suo iscritto Tipo Lui aggiunge Sto Giacomo Aggiungere Giacomo Questo qua E questo Giacomo C'è Un partecipante Altro Dovrebbe scrivere C'è Partecipo Là Tutto il resto Dopo vi dico Le regole E poi alla fine Dovete scrivere Mi ha mandato E il nome di chi Vi ha mandato A partecipare A questo contest Così Un altro foglietto Con il vostro nome Verrà aggiunto Ogni volta Che farete partecipare Ogni vostro iscritto A questo contest Perfetto Regole 1 Mettere mi piace A questo video No anzi no 1 Essere iscritti Al mio canale Assolutamente Andrò a controllare 2 Mettere mi piace A questo video 3 Commentare con Partecipo E poi Invece Se Sto parlando Sempre con me Invece Se fate partecipare Un vostro iscritto Dite di scrivere Di scrivere Partecipo E poi sotto Di scrivere Mi ha mandato Costui Quarta regola La facoltativa Se volete Di aggiungere Questo video I vostri preferiti Poi Se volete Tanto io Non so Come gli altri Capito E quindi Poi Alla fine Il contest Finirà Il 31 Maggio Quando finisce La scuola A me A lei A lei Primo 31 maggio All'1 e un quarto Da me Alle 13 15 Cominciano Le vacanze Fino A settembre Medà settembre Quindi Voglio dirvi Il contest Finisce Il 31 Giugno Esisto Il 31 Maggio Il primo Giugno Faccio il video Dei vincitori E poi Quando Avrò tempo Anche se Siamo in vacanza Però Sapete Io I primi giorni Di vacanze Comincio Già a fare i gommedi Così Poi sono libera Tutta l'estate Faccio quello Che cavolo Voglio E quindi Vi sorteggerò Tramite Questo Barattolo La nei foglietti E I tre vincitori Poi vinceranno Una intro Dipende Dalla più semplice Alla più bella Con le musiche Dipende Poi Mi dite voi Come la musica Come la volete E io vi faccio L'intro Ok ragazzi Per questo video È tutto Google È una figata E ho aggiunto Pure la Cerca vocale Direi che Possiamo finire qui E io vi saluto E spero che Farete partecipare Altri dei vostri iscritti Così I vostri nomi Verranno Riaggiunti Più volte E questo messaggio Di far partecipare Gli iscritti Vale anche Per i vostri iscritti Per gli iscritti Dei vostri iscritti Eccetera Eccetera E quindi Ci salutiamo qui E da Multicamidici è tutto 6 minuti di video Ciao a tutti